Procede l'iter che porterà la riqualificazione ambientale alla messa in sicurezza del litorale di Capaccio Pestum. La Giunta Comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha approvato il progetto definitivo del secondo stralcio, primo e secondo lotto, e del terzo stralcio dell'opera per il valore di 4.368.000 euro e 1.900 metri di litorale. A breve, inoltre, saranno giudicati i lavori del primo stralcio dell'intervento per 1.100 metri. Con l'approvazione dei due restanti stralci del progetto, avviato lo scorso gennaio con l'approvazione in Consiglio Comunale del progetto definitivo per l'importo complessivo di 582.268.53 euro, si completa l'iter che a breve porterà all'espletamento della nuova gara. Il progetto mira la riqualificazione ambientale della fascia litoranea di Capaccio Pestum, una fascia interessata da numerose infrastrutture e attività turistiche che rappresentano una parte economica consistente del tessuto imprenditoriale del Comune, uno degli interventi prioritari nell'ambito di un progetto di valorizzazione dei 12 chilometri della fascia costiera e la messa in sicurezza della Pineta. Tale intervento consentirà di ridurre le criticità derivanti dal problema degli incendi boschivi e nel contempo di razionalizzare la viabilità di accesso alla spiaggia. Con l'imminente aggiudica dei lavori del primo stralcio e l'approvazione dei progetti definitivi del secondo e del terzo stralcio dell'intervento, stiamo per portare a termine un progetto molto importante per la città di Capaccio Pestum, dichiara il sindaco Alfieri. Con quest'opera andiamo a riqualificare e valorizzare la fascia litoranea del nostro Comune per un totale di tre chilometri, un'area che da anni versa nel degrado e nell'abbandono. L'obiettivo anche grazie all'integrazione della fascia pinetale, la cui manutenzione inizierà nelle prossime settimane grazie all'approvazione del piano assestamento forestale e dare al più presto al nostro territorio un litorale finalmente degno della sua bellezza, un luogo più accogliente per i tanti visitatori e turisti che scelgono la nostra città, una fascia costiera più appetibile per chi in estate sceglie il mare del Cilento per le sue vacanze.